A ECMA B&W porta anche la nuova B&W R12GS, una moto che non ha bisogno di presentazioni, un vero e proprio best seller. Che cosa cambia? Allora, se il motore rimane sempre lo stesso a giornate Euro 4 ma sempre 125 cavalli, va a cambiare prima di tutto l'aspetto estetico. Come vedete è un po' più cicciotta e muscolosa qui in questa zona e c'è anche questa altra paratia, questo fianchetto in contrasto con quest'altro nero che muove un po' l'insieme, un becco un po' rivisto, anche il fanale, ma le veri novità sono un po' più nell'elettronica. Perché? Perché questa moto porta con sé tutte le R12GS, porteranno con sé due mappature di serie, Rain e Road. A scelta c'è ovviamente anche il pacchetto Pro, diciamo, per avere quattro mappature, e quindi Dynamic, Dynamic Pro, Enduro ed Enduro Pro. Ma essendoci anche la piattaforma inerziale, c'è anche l'ABS Pro e le nuove generazioni di sospensioni Dynamic Esa adesso sono in grado di dialogare con la piattaforma inerziale. Quindi sanno sempre, si tarano sempre sapendo se la moto è inclinata, sta frenando, sta accelerando, insomma, li tengono ben sotto controllo. La modalità di guida Pro comprende anche l'assistente alle partenze in salita. E ovviamente c'è anche l'ABS Pro, è in grado di frenare, fa frenare la moto inclinata senza problemi. Ma un'altra bella novità, venite qui, della nuova R12GS, è la versione Rally, che è quella che vedete lì. Ed è fatta per i nostalgici della parigi Dakar, fondamentalmente. Il blu, tipicamente BMW, e le competizioni. Ecco qui, bello anche questo adesivo dove si mette, diciamo, l'incavo del serbatoio. Lo scarico a Krapovic che promette un sound davvero niente male, ma c'è anche una sella che è piatta. Adesso qui non la vedete, perché c'è seduto un signore che non scomodiamo, ma rispetto all'altro modello è molto più piatta per permettersi di muoversi con più facilità nella guida off-road, perché chiaramente cerchi a raggi, preumatici artigliati, anche qui Dynamic Esa, un parabrezza più basso e più sportivo, che proteggerà meno dall'aria, ovviamente, rispetto a quello delle sorelle più votate ai viaggi. Ma qui non ci interessa, come così non ci interessa avere delle pedane particolarmente confortevoli, che infatti qui si può addirittura togliere il gommino ed avere, come col pedale del freno, più presa con gli stivali quando il gioco si fa d'uno, insomma, col fango. Insomma, vi piace la nuova RM2GS Rally? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!